MBE 2024 stand QJ Motor Arriviamo qua in questo stand ben costruito per così vedere la gamma che è davvero molto molto vasta, copre tanti aspetti del mercato e questo marchio che ricordiamo è un marchio asiatico cinese viene adesso finalmente portato in Italia con una certa volontà una certa voglia di farlo conoscere ai più e questa è l'occasione buona Cerizza, responsabile di comunicazione commerciale e marketing di QJ Motor raccontaci quali sono i modelli più significativi e interessanti su cui puntate di più Sì, innanzitutto benvenuti nel nostro stand a questo punto partirei subito a presentarti quella che quest'anno sarà un po' la nostra biglietto da visita per quanto riguarda il mercato delle super sportive una vera e propria novità che verrà come abbiamo già visto nei vari siti e sui vari media è stata presa come punto di riferimento delle super sportive di casa cinese è la nuova SRK 800RR, un 4 cilindri in linea da 800 cm3 di 102 cavalli quindi una moto super sportiva che ha un prezzo di lancio di 8.900 euro più messa in strada e quindi la ciclistica come si può vedere è una ciclistica derivata da sportive in linea giapponesi ma con un'interpretazione, un design molto moderno tra l'altro la moto correrà con un team famosissimo del quale poi verrà dopo la presentazione svelato il nome nell'europeo durante le gare della superbike e quindi avremo una nuova connotazione anche di super sportività da parte di QJ interessante la seconda novità che secondo me è un po' il fiore all'occhiello questo è questa novità, questo custom 4 cilindri AV 600 cm3 che secondo me ricopre e va a coprire quello che è quella mancanza che si è avuta in questi anni dell'assenza di un prodotto più vicino al famoso prodotto sia di Honda Shadow che di Yamaha, di Dragstar e che va a colmare un vuoto con una sua caratteristica di design dove gli appassionati del custom sicuramente si rincontreranno è molto ben fatta, da quello che vedo effettivamente finiture ben curate una bella linea, ruota anteriore, bella ciccia, mi piace sì, la peculiarità di avere i 4 scarichi, uno scarico, un silenziatore per ogni cilindro e che rende la moto simmetrica e allo stesso tempo la versione che verrà importata in Italia sarà biposto quindi avrà anche una sella per il passeggero posteriore permetterà anche agli appassionati del mondo custom di accedere con un prodotto che sicuramente non li farà sentire inferiori a ben altri casi per esempio il prezzo 6.900 6.900, ottimo, ottimo senti, poi c'è anche roba di piccola cilindrata cilindrate, quindi piccoli motociclisti crescono e vediamo la 125 con motore sempre a V vediamo la 300, quindi vediamo la 300 SRV passiamo verso quella che è stata un po' una mia sfida personale nel presentare la 550 che è una neoclassica che secondo me va verso un pubblico di clienti maturi che hanno voglia di una certa immagine ma allo stesso tempo un utilizzo quotidiano da commuter con eleganza e un fascino retro che non guarda è interessante, senti, e per quanto riguarda la disponibilità effettiva nei concessionari di cosa parliamo? allora, tutti i prodotti che vedete esposti sono praticamente sulle navi e stanno arrivando in consegna i primi modelli già omologati entro il 20 di febbraio e la rimanenza di alcuni modelli che sono in attesa di omologazione sicuramente verso aprile beh, allora più o meno ci siamo il mercato è caldo sì, l'idea di avere una di cercare di andare a fatturare 10.000 veicoli in Italia è un numero molto ambizioso ma con una gamma completa come quella attuale di QJ sicuramente ci permetterà di poter pensare di raggiungere mete ambiziose grazie mille è stato un piacere complimenti per lo stand le moto sono sicuramente interessanti vedremo in futuro il mercato quale risposta potrà consegnarci e in bocca al lupo bene, speriamo che anche la gamma adventuring sia apprezzata dal pubblico dove ci spendiamo molto perché arriviamo da un prodotto comunque di qualità alta e quindi grazie di tutto e vi aspettiamo nelle concessionarie grazie